Eccoci ritornati, l'appuntamento è con Radio Tour in 104 e Video Tour in canale 655 e DJ Terrestre. Oggi vi presentiamo il nuovo playmaker della Viola Reggio Calabria, Ogo Agdeboie. Ogo Agdeboie è corretto? No, non è, è Ogo Agdeboie, il G con il mio ultimo nome è silenzio. Sembra un accento alla fine? No, Agdeboie. Agdeboie? Sì, il G è silenzio, quindi è come Agdeboie. Seconda settimana in Reggio Calabria. E' un bel gruppo di ragazzi, c'è gente di esperienza ma anche giovani e tutta gente che ha voglia di lavorare e possiamo fare bene. Cosa può essere la chiave per vincere più game? Credo che basta giocare intensamente per 40 minuti, soprattutto in difesa. Questa è la chiave per vincere qualsiasi partita. Ovviamente dovremo far bene anche in attacco ma credo che la vera chiave sia stare in partita per l'intera durata della gara, per 40 minuti. Chi è Ogo Agdeboie? Credo di essere un bravo ragazzo che ha voglia di lavorare molto ed ha la passione per questo gioco. Insomma, un ragazzo tranquillo, normale. E' un po' lo Staples Center di Reggio Calabria. Sì, mi piace molto. Se riuscissimo a riempirlo completamente, creeremmo un ambiente molto caldo e rumoroso. In ogni caso, la mia prima esperienza devo dire che è stata davvero positiva. Non lo conoscevo prima, ma ho avuto modo di parlare con lui durante il lavoro che facciamo ogni giorno in palestra. Mi hanno detto della sua storia, della sua storia qui, e devo dire che è una grande persona. E' un bravo ragazzo, è un bravo ragazzo. Come senti di essere parte di un team storico dove molti famosi giocatori giocarono come Ginobili, come Kobe Bryant? Mi sento fortunato, onestamente. Prima di arrivare non sapevo che i giocatori di questo calibro avessero giocato qui. Quando me l'hanno detto sono rimasto a bocca aperta. Do you know Ashley Hamilton? Sì, do. Conosco Ashley, è un mio grande amico. So anche chi ha giocato qui qualche anno fa. Un messaggio per Reggio Calabria. Un messaggio per chi? Per i tuoi fan, il tuo team. Lavoreremo duro e speriamo di fare in modo di poter svoltare, far sì che questa stagione alla fine possa avere un successo. Come pensi del prossimo gioco contro Benacquista Latina? Come pensi del prossimo gioco? Il prossimo gioco, Latina. Ad essere sincero, essendo nuovo di questo campionato non conosco molto bene Latina. Posso dirti però che, come per ogni altra partita, dovremo impegnarci molto e dare tutto ciò che abbiamo. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.